Ciao cari amici, benvenuti in un nuovo episodio di Altmate. Oggi vi faccio vedere una breve intervista di Giulietto Chiesa in merito a chi sono realmente i nostri nemici, a chi sono realmente i potenti che governano il mondo e le loro sporche e feroci ambizioni. Andiamo subito a vedere. Sono un economista, io sono un giornalista, conosco la politica internazionale e una cosa che conosco sono i rapporti di forza. Li ho imparati dal mio mestiere e quindi la prima questione che mi pongo è quanto sono forte io e quanto è forte il mio nemico. E quindi io non posso fare un programma in astrazione. Non avversario, nemico. Nemico, perché noi abbiamo dei nemici. Io ritengo, l'ho scritto, l'ho detto cento volte, il mondo in questo momento è governato dai padroni universali che sono un gruppo di persone che hanno un potere sterminato rispetto al quale noi facciamo perfino fatica a immaginare. Diciamo che sono molto feroci, perché prendono decisioni feroci. Allora, io non li sottovaluto. Siccome abbiamo un programma, la prima cosa che farei, tra l'altro lo voglio dire al grande pubblico del nostro programma, noi abbiamo detto che la prima cosa che potremmo, proprio una mozione, e la prima cosa che potremmo, proprio un'altra pubblico del nostro programma,